Siamo d'accordo che è così per tutti, per tutti quelli in ogni parte del mondo che siano nelle nostre condizioni, un po' più, un po' meno. È il destino comune della nostra generazione. Alberto trova la formula. È la guerra che ci ha resi inetti a tutto. Ha ragione, non siamo più giovani, non aspiriamo più a prendere il mondo d'assalto. Siamo dei profughi, fuggiamo noi stessi, la nostra vita. Avevamo 18 anni e cominciavamo ad amare il mondo, l'esistenza. Ci hanno costretti a spararle contro. La prima granata ci ha colpiti al cuore, esclusi ormai dall'attività, dal lavoro, dal progresso. Non crediamo più a nulla. Crediamo alla guerra. Sono Cristina, bibliotecaria di Genova. Lavoro in università, nella scuola di scienze umanistiche. Ho scelto di leggere per voi un brano tratto da un romanzo che ho scoperto quando ero adolescente. È un classico dell'antimilitarismo e del pacifismo. Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Anche questo è un libro che ha subito la censura. Ancora lo sfoglio e lo leggo per voi con Aib Liguria, I libri Salvati 2021.